Erano agli arresti ma percepivano il reddito di cittadinanza. A scoprire questi illeciti è stata la Guardia di Finanza di Arezzo. Sì, tutto nasce da un approfondimento normativo. Abbiamo cercato di individuare i possibili aggiramenti della norma e siamo riusciti, grazie alla collaborazione di altri enti, in primis il Tribunale e anche l'Inps, siamo riusciti a individuare questi soggetti che avevano omesso di comunicare l'informazione di essere stati sottoposti a misure cautelare. In tutto 17 i soggetti che nonostante fossero sottoposti a misure cautelari per reati anche gravi percepivano lo stesso il reddito di cittadinanza, circa 100.000 euro in tutto, percepiti illecitamente. Sì, i reati sono diversi. Si va dal traffico di sostanze stupefacenti alla violenza commessa nei confronti di pubblico ufficiale fino all'omicidio colposo e in alcuni casi si parla di furto e ricettazione. C'era anche chi si era dimenticato di dichiarare il possesso di alcuni immobili, in un caso addirittura cinque appartamenti, o qualcuno che aveva invece dichiarato di aver sottoscritto un contratto di locazione e poi risultato fittizio, ma che consentiva di avere 3.360 euro l'anno di rimborso. Prevalentemente i soggetti sono residenti nella provincia di Arezzo, ma in alcuni casi sono stati sottoposti a misura cautelare ad Arezzo, ma sono residenti in altre città della Toscana, come ad esempio Prato e Grosseto. L'Inps ha già provveduto alla sospensione e revoca del contributo. Le attività sono in corso, ne individueremo sicuramente altri, anche perché intervengono giornalmente le misure cautelari personali emesse dall'autorità giudiziaria e dal Tribunale, quindi il lavoro è ancora in corso.